wow finalmente una domanda sull'alchimia ti ringrazio tantissimo perché mi spiace che se ne parli poco capisco che l'alchimia non attiri più come nel medioevo però trovo che sia ancora una scienza attualissima e molto utile per la propria crescita personale allora nelle rispondere devo fare attenzione a non svelare troppo allora ovviamente io non ho letto tutti i libri esistenti sull'alchimia mi sono informata contando poi anche che ho scritto ho condotto la ricerca e scritto i romanzi in un periodo in cui le restrizioni del covid erano ancora molto molto aspre e quindi non ho non potevo uscire di casa e anche nei giorni in cui ho potuto farlo la biblioteca era chiusa quindi anche volendo non avrei potuto leggere tutto il leggibile sull'alchimia mi sono informata da sufficienza sull'alchimia tanto quel tanto che mi bastava per usarla come fondamento spirituale nel romanzo non credo di aver fatto alcuna scoperta in merito sicuramente già altri prima di me hanno collegato le due cose cioè l'alchimia e l'amore quello che ho fatto io è stato semplicemente aggiungere una briciola in una pagnotta già costruita cotta intatta da 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 secoli una briciola che è stata frutto di un mio ragionamento e dubito che quella briciola sia farina del mio sacco che nessuno prima di me abbia mai avuto il mio stesso ragionamento per spiegarmi meglio vi faccio un altro esempio allora era sudato fin dall'inizio che Dante e Virgilio avrebbero fatto parte del romanzo così come fanno parte della mia vita tuttavia solo quando approfondì l'alchimia inerentemente al processo della magnum opus mi resi conto quanto l'anigredo che è la prima fase della magnum opus fosse similare alla cosiddetta catabasi alla discesa nell'inferno non soltanto quella dantesca ma anche quella virgiliana di Aenea e tutte quelle facenti parte della letteratura antica quindi come la discesa di Ulisse e così decisi di rendere Dante e Virgilio altrettanto importanti per Bianca e quindi nella parte storica così come lo sono per me e nella parte del presente quindi Dante e Virgilio diventano una presenza costante nel romanzo diventano due figure chiave per comprendere e realizzare la magnum opus è innegabile che l'anigredo sia la parte più approfondita nel romanzo dopo tutto l'intera storia è una sorta di viaggio nell'inferno anche se non proprio quello dantesco di inferno vero e proprio ma l'inferno che ognuno di noi essere umano porta dentro di sé mentre invece nella divina commedia e nelle neide sono la discesa dell'inferno è soltanto un capitolo o una cantica. A dir la verità terminata la sesura venni poi sapere da un appassionato dantista della caseritrice che il pensiero l'associazione cammino dantesco uguale cammino alchemico fosse già stata affrontata da altri dantisti. A me nessuno aveva suggerito questa associazione semplicemente fu una mia deduzione un mio pensiero logico naturale dovuto al fatto che per me leggere la divina commedia sia stato un validissimo aiuto per affrontare molti periodi infernali della mia vita quindi la divina commedia mi ha effettivamente reso una persona migliore che poi lo scopo della della magnum opus. Quindi quanto accaduto in questo caso probabilmente è anche similare a quanto accaduto per il concetto di alchimia legata all'amore quindi non credo di aver inventato nulla di nuovo semplicemente sono arrivata alla stessa deduzione che già altre persone ebbero prima di me. Fin dalla sua nascita l'alchimia fu praticata da due tipi di alchimisti, alchimisti bugiardi e superficiali e alchimisti puri di cuore. I primi credevano di arricchirsi, reputavano la pietra filosofale un qualcosa di fisico, di materiale da crearsi in laboratorio e per intenderci sono quei falsari di metalli che Dante relegò alla decima e ultima bolgia dell'inferno. I secondi vedevano invece l'alchimia come una pulizia spirituale. La pietra grezza era trasformare in oro, non era il piombo vero e proprio ma era il proprio io. La pietra filosofale era la conoscenza. Per nascondere il loro vero intento usarono i processi alchemici come allegoria dei processi spirituali. La nigredo è la fase più importante della magnum opus proprio perché corrisponde alla pulizia necessaria a cui sottoporre la pietra grezza in modo da farla diventare oro. È un po' come il concetto di seme. Il seme nasce, si ricava da una pianta già cresciuta, già maturata, va posto in terra dove possa sfaldarsi, macerare e quindi in qualche modo morire per poi risbocciare, rinascere, germogliare in una nuova pianta. Per questo il concetto di semina è fondamentale nel romanzo perché aiuta a comprendere il processo spirituale e la sua validità. La natura è l'elemento chiave nel romanzo per spiegare quanto sia forte il riflesso natura uomo anche se è un rapporto che è andato a perdersi purtroppo nel corso degli anni ed è per questo secondo me che il mondo va in malora. Quindi la nigredo è la parte fondamentale proprio per il concetto di pulizia altrimenti sarebbe un po' come arredare una casa l'ercia senza averla prima pulita. Sicuramente è un processo veramente complesso quindi cosa potrebbe mai spingerti ad affrontarlo? A preferire la conoscenza, dunque la ricchezza intellettuale invece di quella materiale, l'amore. Ma non un amore qualsiasi. Allora, rispondendo ad una precedente domanda, avevo fatto una distinzione, una suddivisione dell'amore. Nell'antica fiamma vengono affrontati tre tipi di amore. Il primo è quello classico tra due persone, quello a cui fanno riferimento Dante e Virgilio quando parlano di antica fiamma. Il secondo amore è quello a cui si riferisce Dante alla fine della Cantica del Paradiso e quindi a conclusione della Divina Commedia ed è da leggersi in chiave religiosa. Poi c'è un terzo tipo di amore ed è quello che intendo io per realizzare la magnum opus, per trovare il bene nel male come avevo già spiegato in un precedente video. Il terzo amore secondo me è quello più importante, quello che se sano permette di costruire e vivere in modo sano anche gli altri due tipi di amore. Secondo me è tra i tre quello di cui non si dovrebbe mai fare a meno perché allora è possibile vivere senza l'amore di un genitore, di un compagno, di un figlio, è altrettanto possibile vivere senza l'amore di un Dio e per un Dio. Gli atei ben lo dimostrano, ma credo che vivere senza il terzo tipo di amore renda la vita un inferno appunto. A questo punto sarebbe legittimo da parte vostra chiedere perché mai il titolo del romanzo fa riferimento al primo tipo di amore se è il terzo il più importante che vuole passare come messaggio? Allora prima di tutto il romanzo affronta tutti e tre i tipi di amore. Si parla molto di sentimenti amorosi e anche carnali, anche se non avesse piuttosto poetica e platonica. Si parla di... è presente l'amore paterno tra Antonio Deleive e Bianca, tra il Marchese Gian Giorgio e Bianca, tra Luquino e Bianca, tra Vlad e sua figlia quando ne parla all'inizio del romanzo. C'è poi l'amore fraterno, quello di Fiammetta per Bianca, quello che lega Bianca Maria e Maria Paleologo e poi si parla moltissimo di religione pagana, antico-romana, cristiana, quindi l'amore uomo-Dio, uomo-dèi. E poi ovviamente c'è il vero nocciolo della faccenda, l'amore numero tre. Di la verità poi la motivazione è ancora più complessa. Il fatto è che nel romanzo arrivo ad un punto in cui, portando avanti un concetto che fa parte della mia vita, ma che nella finzione letteraria nasce con Bianca e si riflette sul personaggio del presente, in parole povere e il fatto di restare zitelle. Parto da quel punto e modifico il significato di Antica Fiamma. Non è più solo l'amore, quello di Didone per Enea o per il defunto marito, quello di Dante per Beatrice, quello di Bianca per Hermes o per René di Schellan, quello di Maria Paleologo per il Gonzaga, quello mio per la manica di disgraziati che ho amato e qualcosa di molto di più. E si ricollega all'alchimia, chiudendo il cerchio della Magnum Opus. Un processo che aveva avuto inizio con l'Anigredo barra Inferno per giungere al Paradiso, Rubedo, Pietra Filosofale. Ma la Pietra Filosofale, tra le sue virtù, aveva anche quella di creare una fiamma inestinguibile, eterna. Non peraltro la fase conclusiva della Magnum Opus, ossia la Rubedo, aveva come elemento caratterizzante proprio il fuoco, mentre all'iniziale l'Anigredo aveva come elemento la terra. Dato per assodato che il fuoco nel corso dei secoli della storia umana abbia assunto un'importanza fondamentale, simbolica per numerose, se non tutte, le culture, le religioni e molti frammenti di quella simbologia fanno ancora parte del nostro quotidiano, sebbene si tenda a dimenticarlo o peggio non lo si sappia proprio. Fermo restando questo, per l'alchimia il fuoco aveva un'importanza ancora più profonda, era innanzitutto associato al numero uno perché simbolo dell'unità, da cui per condensazione si originarono gli altri tre elementi. L'Atanor, che era il nome tecnico del forno d'alchimista, era per gli alchimisti veri null'altro che lo spirito umano, ossia il cuore, dove realmente avvengono le fasi alchemiche, dove realmente brucia il fuoco inestinguibile. Ciò mi ha portata a collegare il terzo amore all'alchimia, perché quel terzo amore è legato ad una parola che etimologicamente nasce dal termine cuore, però basta, non voglio dirvi di più altrimenti veramente vi svelo tutto. Comunque terzo amore, fuoco alchemico, sono fiamme che non possono, non devono spegnersi. Ho pensato dunque che una fiamma eterna diventi ad un certo punto ovviamente anche antica e tombola l'antica fiamma, proprio come l'amore numero tre, che essendo il più importante, il fondamento per ogni sentimento deve essere inestinguibile. Ed ecco quindi il vero significato dell'antica fiamma nel mio romanzo. È un concetto che resta comunque legato per origine ad antivirgilio, ma che viene elaborato in qualche modo, proprio come insegnava la magnum opus, come insegna la semia, è un concetto che viene smembrato per essere ricostruito in modo ancora più approfondito e ampio, in modo da legarsi all'alchimia. Ovviamente se volete sapere cosa sia mai questo fantomatico amore numero tre ed a questo punto leggete il romanzo.